Ciao ragazzi! Oggi vi propongo un video sugli snack estivi che preferisco e ho deciso di fare cose che effettivamente mi piace mangiare La maggior parte di questi sicuramente già li conoscerete Il primo che vi propongo è il frullato con mirtilli, banane e fragole Ho semplicemente preso un po' di frutta, l'ho fatta a pezzi, poi ho aggiunto del latte Però la quantità di frutta e la quantità di latte variano direi in base ai vostri gusti A me piace di più con meno frutta e più latte Se invece vi piace di più con il sapore della frutta vi consiglio di mettere decisamente più frutta di me Non mi basta far altro che aggiungere due cucchiai di zucchero e anche qua varia a seconda dei gusti Aggiungere il latte e frullare tutto quanto con i mini filmer Una cosa che faccio io opzionale è metterci un colino e farci passare attraverso il frullato Per eliminare eventuali grumi o eventuali pezzi di frutta che sono rimasti Infine taglio della frutta in pezzi e la butto dentro al frullato per mangiarla una volta che ho finito di berlo Il secondo snack che vi propongo è il mio adorato E amatissimo avocado con olio d'oliva e sale Quello che faccio è semplicemente tagliare in due l'avocado Toglierci il nociolo, tagliarlo a cubetti lasciandolo nella buccia Non mi ha registrato la parte ma aggiungerci un filino di olio e un po' di sale E gustarmi questa prelibatezza perché vi garantisco che è buonissimo Se non l'avete provato dovete assolutamente provarci È un gusto molto particolare l'avocado, può piacere come no, però se vi piace vi farà impazzire Il terzo che vi propongo è il super classico yogurt con i cereali e i frutti di bosco Mi basta semplicemente aggiungere uno strato di yogurt, poi uno di cereali I mirtilli, i lamponi, di nuovo i cereali Insomma è buonissimo sia da mangiare ed è bellissimo anche da vedere L'ultimissimo che vi propongo è il semplicissimo latte e menta È fresco, disseta tantissimo ed è veramente buonissimo Se di solito lo bevete con l'acqua vi straconsiglio di provarlo con il latte Perché secondo me, a parere mio, è 200 volte più buono Spero che questo breve video vi sia piaciuto Io vi ricordo come al solito di seguirmi su tutti i miei vari social Ossia Instagram e Snapchat E se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi per restare sempre connessi with me Mi raccomando fatemi sapere se proverete uno di questi snack O se lo conoscevate già o quali sono i vostri preferiti per scambiarci tante idee Vi mando un super bacio e ci vediamo alla prossima Ciao!